Sento avvicinarsi nei passi quasi come una minaccia che viene verso di noi Non li distingo bene però dall'odore sono certo di sapere chi sono E' probabile che non sappiate che sul pianeta ci sono esseri chiamati uomini Poi che sfidoci come sono parti perché li conosci così bene questi che si chiamano uomini Loro sono fatti quasi come noi con le gambe e il naso camminano per i piedi e guardano con gli occhi anche E' anticipare di camminare che tra tutti gli uomini nessuna differenza Apparentemente noi siamo uguali ma è una bugia E la differenza è davvero immense Puoi dire che cosa consiste la diversità a cui tu aiuti La differenza sta nel fatto che loro non essendo come voi ragionano da uomini E i bambini E i bambini una volta uomini non giocano più Piano piano perdono il valore di tutte le cose Piano piano perdono il valore Piano piano perdono il valore E la differenza per i piedi Grazie per la visione!